Il piano delle alienazioni dovrebbe essere semplicemente un atto amministrativo fra gli altri, solo per dire quali proprietà pubbliche sono cedibili e a quale prezzo. L'elenco di tutto ciò che un ente in via d'estinzione, come l'amministrazione provinciale, è disposta a vendere, si colora però di un patos tutto particolare. In corso Vittorio Emanuele II c'è un ente pubblico, infatti, pronto a vendere pioppeti, campi agricoli e boschi misti per un valore di 2 milioni e 700 mila euro, ma anche un'ex chiesa come San Vitale a Cremona, ormai sede di eventi, attività culturali e assemblee, oltre a una serie interminabile di piccoli reliquati e fabbricati in vendita da anni. Le dismissioni proseguono senza interruzioni da tempo, ma non sono ancora finite. La spesa pubblica nel corso degli anni è stata rilevante. Il presidente Carlo Vizzini ha già sottolineato che le leggi dovrebbero evitare procedure imbarazzanti, anche umilianti alla pubblica amministrazione, costretta a mettere all'asta tre volte i propri beni, come l'ex sanatorio di Toscolano Maderno, senza che nessuno si presenti, in modo che il prezzo scenda. E a Toscolano l'ente provincia ha già rimesso oltre 2 milioni di valore a base d'asta. C'è anche un altro ex sanatorio in vendita, quello di Borno, ancora in provincia di Brescia, che nessuno ha mai acquistato per i 2 milioni di valore. Si tratta di donazioni provenienti da privati e destinate a tornare a privati, e a non rimanere più, molto probabilmente, strutture sanitarie per essere trasformate in abitazioni o alberghi. Da oltre 20 anni l'amministrazione vuole vendere tutte le case cantoniere, ma sono alcune e hanno trovato un compratore. A Soncino, Calvatone, San Giovanni in Croce, Torre dei Picenardi e Cicognolo rimane idealmente il cartello vendesi per circa 100 mila euro. Se tutti gli edifici fossero venduti quest'anno, l'incasso sarebbe di 15 milioni. Corso Vittorio Emanuele II da anni cerca di alleggerire il costo ormai insostenibile del patrimonio pubblico, cedendo, se non la proprietà, almeno la gestione tramite il fondo Eridano. Di alcuni immobili, inoltre, la provincia ha pagato per anni l'affitto, proprio mentre tentava di vendere altri edifici. In un primo tempo l'amministrazione ha tentato di risolvere le contraddizioni, come ha rivendicato l'assessore Fontanella durante la presidenza Salini. Ultimamente la riforma del Rio e il taglio dei finanziamenti statali hanno troncato la questione. Meglio vendere tutto e presto, ammesso che la lunga crisi del mercato immobiliare lo consenta.